una delle cose che amo veramente fare con l'iphone è quella di leggere i libri vediamo un po' come gestire i vari aspetti della lettura di un testo leggere quindi con la sintesi vocale e gestire il testo segnalibri importazione magari scompattare un testo che ci arriva tramite mail sotto forma di pacchetto zip cominciamo con il primo passo sarebbe quello di scaricare l'applicazione per la lettura di testi quindi .txt o .doc i formati che non vengono gestiti dai books io ho scelto Voiced Dream per l'infinito numero di funzioni che andremo a studiarci la prima cosa che devo fare prima di cominciare a leggere ovviamente è prendere il libro da Dropbox o da un allegato email e importarlo in Voiced Dream cominciamo con l'allegato mail come vedete ho una mail dove ho il mio libro bello pronto in un pacchetto zip in questo punto devo aprire il zip in un'applicazione sempre di terzi parti che scompatta il pacchetto e mi estrae, estrapola solo il testo faccio doppio tocco trattenuto sopra l'allegato ok doppio tocco trattenuto e scelgo di aprirlo in filler che è un'applicazione che gestisce molto bene zip e rara email, pulsante, trascinabile, note, pulsante, copia in filler, copia in sa contatti, copia in filler, pulsante, trascinato, filler, empty, filler per 8 Pier Giorgio programma 101 L invenzione del personal computer una storia appassionante mai raccontata zip 64.5kb file type zip archive come vedete lui mi dà tutti i dettagli faccio doppio tocco semplice per 8 Pier Giorgio programma 101 L invenzione del personal computer una storia appassionante mai raccontata zip zip archive flick un archive scompatta doppio tocco come vedete lui scompatta in maniera molto veloce il file e il cursore si posiziona sul testo txt potrei già leggerlo qua dentro ma ovviamente sarebbe molto scomodo perché questa applicazione è un gestore di file quindi non gestisce segnalibri per esempio se è una cosa banale ma importante faccio doppio tocco trattenuto su questo file per 8 Pier Giorgio programma 101 txt 189.3kb avviso, cancel, pulsante e si apre non è fondi et, immagine si apre il famoso menu condividi tramite quale posso trasferire il mio testo nell'applicazione Voicedream quindi con flick vado a cercarmi Voicedream Eccolo qua, doppio tocco Voiced, avviso, cartelle, pulsante tutti i file, pulsante modifica, pulsante Cerca, campo di ricerca Per 8 Pier Giorgio Programma 101 3 ore 33 minuti 45 secondi 0% Copertina Pier Giorgio per 8 prefazione di enore di 8 Programma 101 L'invenzione del personal computer Una storia appassionante mai raccontata Sperling e Coupfer editori Retro di copertina Una vicenda di incomprensioni da superare D'intese subitane Di alleanze da coltivare Di mentalità elettronica da far crescere Di nucleo del progetto da difendere Per conservarne la scop Azioni disponibili Come vedete è già importato nell'applicazione Voicedream E non solo Mi dice che se mi ci metto In tre ore Con questa applicazione Leggo tutto il libro Mi dà un estratto Di quello che sono le prime righe del testo Se voglio cominciare la lettura Faccio il doppio tocco Sul titolo del libro che voglio leggere Per 8 Pier Giorgio Programma 101 Per 8 Pier Giorgio Voicedream Titolo Per 8 Pier Giorgio Programma 101 Si apre il testo E sopra il tasto home Compaiono una serie di pulsanti Che mi permettono di gestire la lettura Vediamo un attimo quali sono Segnalibri Pulsante Segnalibri Seleziona testo Inizia da qui Riproduci Pulsante Regolabili Elementi 30 secondi Cerca Pulsante Come vedete Mi dà una serie di pulsanti Che veramente aumentano le funzioni Di questa applicazione Anzi La rendono abbastanza unica Facciamo riproduci Un secondo Riproduci Pulsante Regolabile Copertina Pier Giorgio Per 8 Prefazione di Enore De 8 Programma 101 L'invenzione del personal computer Una storia appassionante Mai raccontata Pulsante Regolabili E ho anche pausa Se voglio aggiungere Un segnalibro Inizio Pulsante Modifica testo Pulsante Azione Pulsante Impostazioni audio Regolabile Torna alle impostazioni del testo Pulsante Aggiungi segnalibro Pulsante In alto A destra Troviamo Aggiungi segnalibro Prima di arrivare Al pulsante Aggiungi segnalibro Ho scorso Una serie di pulsanti Che mi permettono Di agire sul testo E sulla modalità Di riproduzione Torno indietro Torno alle impostazioni del testo Pulsante Impostazioni audio Regolabile Ok Posso Regolare Le impostazioni audio Impostazioni audio Velocità del parlato Default 180 parole al minuto Regolabile Ho fatto doppio tocco E mi si è aperto Una scheda Da cui posso scegliere I vari parametri Della sintesi vocale Che legge Il testo Posso aumentare La velocità Facendo il flick Verticale 200 parole al minuto Ok Diminuisci Pulsante Aumenta Pulsante Lingua Italiano Pulsante Sto facendo flick La pronuncia del dizionario Pulsante Gestione voci Pulsante E in più posso far leggere questo libro Con una voce aggiuntiva Un'altra funzione molto carina Di Voce Dream E la possibilità di aggiungere Altre voci a pagamento Fatto la regolazione Torno indietro 88 Impostazioni audio Intestazione Lettore Pulsante indietro Ok Inizio Pulsante Vi faccio vedere Com'è più veloce Riproduci Pulsante Regolabile Editori Retro di copertina Una vicenda di incomprensioni Da superare Di intese Sub Ok Posso interrompere La lettura Anche con il solito gesto Di doppio tocco Con due dita Perché in verità La lettura Viene svolta Viene svolta Diciamo il pulsante Segnalibri Che ci fa visualizzare Un elenco di segnalibri E tutto qua 0,2% In generale In quella Per la lettura Ok Torno indietro Inizio Pulsante Inizio Pulsante Modifica testo Pulsante Tempo trascorso 21 secondi Posizione 0% Tempo rimasto 3 ore 12 Tempo rimasto 3 ore 12 minuti 2 secondi Aggiungi segnalibro Pulsante Torna alle impostazioni Del test Impostazioni audio Reazione Pulsante Modifica testo Inizio Pulsante Inizio Pulsante Cartelle Pulsante Torno Nell'elenco Dei file Premendo Il pulsante Inizio Che trovo Come il solito In alto A sinistra Pulsante Inizio Pulsante Indietro Se voglio Cancellare Un file È sufficiente Posizionarmi Sopra il file E eseguire Il solito Gesto Flick Dall'alto Verso il basso Che mi Permette Di sfruttare Il menu Delle azioni Elimina Doppio Tocco Cerca Campo di ricerca Ok Perotto Pier Giorgio Programma Aggiungi Pulsante Quindi Abbiamo Aggiunto Un file Proveniente Dalla nostra Posta elettronica Sotto forma Di zip All'applicazione Voicedream Ma Noi Possiamo Pescare Dei libri Non solo Dalla mail Quindi tramite L'allegato Ma anche Direttamente Da un servizio Tipo Per esempio Google Drive O Dropbox Quando Facciamo Flick Sempre da sinistra A destra Arriviamo Diciamo Alla barra Inferiore Sopra il tasto Home Dove c'è Aggiungi Pulsante Lui di default Ci propone Queste opzioni Ma in verità Noi vogliamo Aggiungere Da un servizio Di Storage Online Quindi Andiamo Un attimo In impostazioni Aggiungi Pulsante Per otto Piaggiorgio Modifica Pulsante Cartelle Pulsante Tutti i file Pulsante Modifica Pulsante Aggiungi Pulsante Aggiorna Pulsante Ordina Pulsante Impostazioni Pulsante Si trova in basso A destra Apriamo Impostazioni E qua Troviamo Di tutto E di più Faccio Flick Impostazioni Conti Intestazione Dropbox Pulsante Conti È una pessima Traduzione Di account Infatti Subito Troviamo Account Conti Tra virgolette Collegati All'applicazione Voice Dream Apriamo Dropbox Con doppio tocco Trattenuto Pulsante indietro E autorizziamo Dropbox Dropbox Intestazione Abilita Pulsante per attivare o disattivare Abilita Voice Dream Desidera aprire Dropbox Sì Apri Pulsante Apri E Dropbox Annulla Pulsante Li diciamo che Autorizzo L'applicazione Dropbox Di essere visualizzata Dall'applicazione Voice Dream Voice Dream Reader Vorrebbe accedere ai file Alle cartelle del tuo Dropbox Sì Ulteriori informazioni Link Consenti Consento Dopo aver autorizzato Dropbox Ok Voice Dream Può vedere I file Che io carico Su Dropbox No E aprirli direttamente Quindi al posto di importare Un libro Da un allegato E-mail Io posso Comodamente Aprire Dropbox Sul computer Caricare Dentro Un file TXT E vederlo Con L'applicazione Voice Dream Vediamo Subito Come si fa Questo processo Ok Ok Prima Di andare In Dropbox Ovviamente Devo scegliere Il file Che voglio caricare Vediamo Andiamo In Mail 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 Per esempio Proviamo a scegliere Un altro Allegato Eccolo qua Apro il menu Contestuale Vo Shift M E salvo L'allegato Per esempio Nella cartella Download Apri con ellisse Visualizzazione Salva nella cartella Di download Vuoto Testo Presto Dobla Child Link Labyrinth Blue Zip Immagine Selezionato Chiudi Finestra Ok A questo punto Vado Nella mia cartella Home Finder Dropbox Finestra Dropbox Filmati Immagini Filmati Dropbox Download Cartella Freccia Destra Abc Ios Cartella Presto Dobla Child Link Labyrinth Blu Zip Archivio Zip Lo scompatto Command Preccia Giù Copio Command C Apro Dropbox Ok E lo Posso anche direttamente Spostarlo Command Option V Ok Andiamo a vedere Con il nostro iPhone Ok Se il file Se il file Viene visto Anche dall'applicazione Voiced Dream Posso andare in Dropbox E dirgli apri con Voiced Dream Ma faccio direttamente da Voiced Dream Abilita Pussante per attivare o disattivare Attivo Ok Dropbox Intestazione Impostazioni Pussante indietro Stanno indietro Pussante indietro Impostazioni Intestazione Inizio Pussante indietro Ok Vado a cercare Aggiungi che è sopra il tasto Home Doppio tocco Come vedete adesso Nel menu Compare anche Dropbox O Google Drive Se io avessi collegato Google Drive Doppio tocco Ok E vedo l'elenco dei file Che sono all'interno del mio Dropbox Attenzione Possiamo aprire solo i file compatibili con Voiced Dream Vado a cercare il mio TXT Adesso io ho il file così casuale nel mio Dropbox Ma nulla vi vieta di crearvi una bella cartellina Libri da leggere E essere un attimo più ordinati Doppio tocco Lui mi avvisa che Sta importando il file in Voiced Dream Ok Mi avvisa anche quando il processo è completato Lui dico ok Ok Pussante Ok Dropbox Double Aspreston Lincoln Child Labirinto Blu TXT 596.8KB E torno indietro Sempre premendo il pulsante Inizio in alto a sinistra Indietro Pussante Ok Indietro Indietro Pussante Indietro Dropbox Intestazione Fine Pussante Fine Cartelle Pussante Torno nel mio elenco file di Voiced Dream Ok E apro il libro che ho importato Tutti i file Pussante Modifica Pussante Cerca Campo di ricerca Douglas Preston Lincoln Child Labirinto Blu 10 ore 6 minuti 25 secondi 0% La sera in cui trova il cadavere del figlio sulla soglia di casa L'agente dell'FBI Aloysius Pendergast non ha idea di chi possa celarsi dietro quell'omicidio Sa soltanto che il messaggio è diretto senza dubbio a lui Per cercare il suo nemico Pendergast si concentra sulla gemma rarissima rinvenuta nello stomaco della vittima durante l'autopsia Ma nei luoghi bui della miniera abbandonata dove è l' Come vedete qua mi indica già 10 ore No? E per leggere il libro è sufficiente fare il doppio tocco E far partire la riproduzione Quindi riassumendo Voiced Dream ha infinite funzioni che io non vi ho spiegato E lascio a voi a scoprire Ho toccato solo diciamo le caratteristiche essenziali E accetta testo Cosa che purtroppo iBooks non lo fa E noi possiamo importare un libro sia tramite mail sia tramite Dropbox Nel caso in cui scegliamo tramite mail C'è di mezzo in alcuni casi Diciamo lo scompattamento di un pacchetto zip Ed io ho usato Filler che è un'applicazione molto comoda Pur essendo in inglese Mentre nel caso di Dropbox c'è da autorizzare una volta l'applicazione Dropbox tramite impostazioni Sembra molto incasinato ma in verità è molto semplice e immediato Una volta che eseguite questi pochi passi e capite la logica con cui funzionano le cose Potete leggere comodamente Da parte che i processi di condividi, apri, con Sono dei processi tipici per il nostro sistema operativo Quindi in tutti i casi è importante che voi sappiate queste logiche Buona lettura e fatemi domande nel caso in cui dovrei chiarire questa esposizione Grazie 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 a tutti